L'automotive in Abruzzo perde colpi e così la nostra regione fuori dai confini nazionali si scopre meno dipendente rispetto ai due trimestri precedenti a discapito di farmaceutica, chimica, metalli e tessile. A confermarlo è uno studio di ricerca condotto per la CNA Abruzzo da Aldo Ronci relativa al primo trimestre del 2022. Sebbene il tradizionale punto di forza delle nostre esportazioni abbia subito tra gennaio e marzo un colpo piuttosto duro, 226 milioni di decremento, il resto delle produzioni ha segnato un incremento abbastanza significativo di 235 milioni con un saldo attivo di soli 9 milioni. Un risultato che non risparmia però l'Abruzzo da un tonfo nella graduatoria per regioni, se infatti nel primo trimestre del 2021 la nostra regione era la prima italiana, ora addirittura siamo al terz'ultimo posto, a spiccare soprattutto gli incrementi dei prodotti chimici, degli articoli farmaceutici, di quelli in metallo, del tessile abbigliamento, degli articoli in gomma, delle apparecchiature elettriche. Per quanto riguarda le province abruzzesi le variazioni sono state disomogenee. L'Aquila e Teramo hanno registrato incrementi rispettivamente di 71,83 milioni, mentre Chieti e Pescara hanno invece subito flessioni rispettivamente di 143 milioni, questo dovuto anche alla combinata crisi dei mezzi di trasporto. Gli apprezzabili incrementi dell'export dell'Aquila e di Teramo sono da scrivere nel primo caso ai prodotti farmaceutici più 41,1%, nel secondo a tessile abbigliamento più 51,2%, poi c'è il capitolo agroalimentare. Il confronto con l'anno precedente parla di 13 milioni di euro di incremento delle esportazioni, 190 milioni di oggi contro i 177 di allora, ma anche di un differenziale ancora molto profondo che separa i destini abruzzesi da quelli nazionali, perché l'incremento percentuale più significativo raggiunto in Abruzzo, più 7,5%, vale poco più di un terzo di quello nazionale, più 19,6%. Un gap ancora più apprezzabile se si osservano i destini incrociati delle due voci più importanti del comparto, ovvero vino e pasta. Con il primo capace di un incremento del 7,3%, non va meglio per il settore della pasta. L'importante incremento regionale, 13,8%, impallidisce di fronte al più 28,5% del livello nazionale, ad influire sulle nostre esportazioni anche gli scenari di guerra. Il conflitto in corso genera flessioni di 4 milioni di euro verso la Russia e di 7 per l'Ucraina. Fermo restando il peso del settore dell'automotive per l'Abruzzo, commenta il presidente regionale della CNA, Savino Saraceni, occorrerà concentrare gli sforzi sulla capacità delle piccole e medie imprese di competere sugli scenari internazionali alla regione. Chiediamo di orientare in tal senso la programmazione dei fondi comunitari, consentendo un salto di qualità a un mondo che può avere un ruolo importante.